ok ok ma senti matteo è una curiosità mia visto che quanti anni hai non dico l'età l'hai detto 80 volte semplicemente non me la ricordo no no l'età non si dice niente scherzo no non mi chiamo come non voglio fare come rubino che non dice mai l'età ma tu lo sai quanti anni c'è a rubino perché ho letto cercato su internet ma non c'è stata e secondo me c'è 40 anni rubino no è un diavolo chi è rubino che ti si è messo la crema solare sulla faccia no 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 è no è gilbert nana è un piccolo non pensavo si stava in questa condizione molto alluppata Gilbert cosa che cosa ti passa per il cervello e mi sono fatto la scimicistica i miei capelli avere problemi adesso ce l'ho le capelli biondi non ho mai visto in quindi oggi dovremmo parlare a te come fossi una donna in due senze donna maschi e tu ce l'hai senso io l'accetto